Questo pomeriggio alle ore 17.30 nella Sala Romeo del Palazzo delle Culture di Giarre si svolgerà un'assemblea pubblica dibattito sulle criticità del territorio connesse alla chiusura del pronto soccorso e sulla necessità di riavere l'ospedale di Giarre. I relatori dell'incontro saranno l'avvocato Angelo Danna, sindaco di Giarre, il dottore Francesco Longo, il geologo Marco Neri, moderatrice Emanuela Corsi. Sono stati invitati all'assemblea pubblica le autorità civili, militari e religiosi, i dirigenti ASP di Catania e del distretto sanitario di Giarre. i dirigenti scolastici, i comitati studenteschi, gli organi di stampa. Il coordinatore del comitato cittadino, Angelo Larosa, invita la cittadinanza a partecipare numerosa ed attivamente al dibattito.